Siamo con il dottore Andrea Mandelli, presidente FOFI, oggi alla presentazione della nuova edizione di Farmacista Più che si terrà dal 7 al 9 novembre. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? Direi la tradizionale capacità della federazione con la fondazione Cannavò, con Federfarma e Utifar, di mettere a disposizione dei colleghi un momento dove potersi confrontare, uno spazio libero aperto a tutte le associazioni per fare una proposta, per fare una riflessione, per agitare un dibattito, insomma un momento nella quale la federazione, la Cannavò e tutti i soggetti che partecipano con noi trovano anche modo di aprire un dialogo con chi il farmacista lo fa tutti i giorni mettendosi il camice, sia esso in ospedale, sia esso sul territorio, sia ovunque esercita la professione. Quindi un momento di confronto, un confronto che è sempre profigo, un momento anche per confrontarsi con le istituzioni che non guasta mai, un momento anche per giustamente capire come è andato l'anno in corso e quali sono le prospettive per il futuro. Quindi una occasione unica per un confronto che come ho detto prima nel mio intervento è un po' anche la prova della vitalità di una categoria che sa aggiornarsi, che sa sacrificarsi quando è necessario, che sa aprirsi al confronto quando altrettanto è utile farlo.